Buonasera a tutti e a tutti, sono felice di vedervi qui così numerosi, sono felice di poter ospitare un dibattito di questo tipo su questi temi che difficilmente si possono discutere in giro. Sono felice e voglio presentare gli ospiti di questa sera, voglio ringraziarli principalmente perché sono qui e hanno voglia di condividere con noi le loro esperienze, hanno voglia di condividere i loro studi e hanno voglia di condividere questo momento con noi. Questa sera avremo cinque ospiti in presenza e altri due che invece avremo solo in video. Ringrazio principalmente anche l'associazione Iabaste di Bessè, la Polisportiva San Precario e le Stadio del BAE che hanno contribuito alla realizzazione di questo dibattito. Sono onorata questa sera di poter parlare insieme a tanti palestinesi e lo sono per due principali motivi. Il primo è perché c'è un rapporto che va avanti da molti anni tra Padova, tra l'Italia e la Palestina e il secondo è perché vorrei, e questo rapporto lo voglio raccontare, voglio che si sappia. E in più sono felice perché ho un po' il sogno di poter continuare a costruire insieme dei progetti, avere degli scambi con la Palestina perché in questi anni siamo riusciti ad ottenere molto e credo che ci sia anche molto ancora da dare. Io vorrei ringraziare in primis Davide per essere qui con noi. È la prima volta che riusciamo ad averlo tra di noi. Abbiamo sempre avuto Mauro, il padre, ma finalmente siamo riusciti ad ingaggiarlo e spero che sia la prima di tanti eventi che possiamo condividere con lui. Volevo iniziare appunto da Davide chiedendogli se ci vuole raccontare un'esperienza, un'esperienza di resistenza in ambito sportivo, un'esperienza di discriminazione non solo in Palestina ma comunque anche in una parte di mondo che è molto più vicina a noi che si trova in Europa. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie Valentina. Sì, io per parlare di sport e resistenza in realtà vorrei parlarvi di una cosa un po' particolare, cioè della storia di un indumento sportivo e di come questo indumento sportivo è stato vietato e di come il divieto che è riguardato questo indumento sportivo ha ostacolato la pratica sportiva per tante donne di diverse parti del mondo. Vi parlerò del caso del Burkini che è una tuta sportiva nata appunto in Australia nel 2004 e questa tuta sportiva dovete immaginarvela come una sorta di muta da subacqueo in qualche modo esteticamente, lascia scoperto il volto, lascia scoperte le mani e i piedi, è generalmente in colori sgargianti ed è in qualche modo secondo me una sorta, io lo definisco un oggetto polisemico, cioè un qualcosa che secondo me in realtà quando lo analizziamo, quando stiamo parlando di questa cosa stiamo parlando di tanti fenomeni che ci riguardano, dal problema purtroppo ancora attuale del controllo del corpo delle donne, problema di estetissima attualità purtroppo, oppure anche la questione per esempio migratoria, ma anche quella che è la questione del pluralismo religioso. Molto semplicemente che cos'è questo Burkini? È una tuta che è stata realizzata nel 2004 in Australia da una stilista australiana di origine libanese, Aida Zanetti è il nome di questa stilista. Lei aveva notato che cosa? Che in Australia nelle spiagge spesso le ragazze musulmane non si recavano, non frequentavano la spiaggia, in quel paese, l'Australia, in cui la spiaggia è un luogo fondativo della cultura e della coscienza nazionale, questo era un problema di integrazione. Spesso le ragazze musulmane o non si recavano proprio in spiaggia, ed era un problema, o lo facevano con il Burka, perché in Australia il Burka non è proibito e il Burka è chiaramente non adatto quantomeno ai luoghi di balneazione. Quindi lei identifica il bisogno di realizzare una tuta, un indumento sportivo, per permettere alle ragazze musulmane di praticare sport nella maniera più consona e più comoda possibile nella spiaggia. Lo realizza nel 2004. In realtà però passano due anni prima che questa tuta abbia successo e devono accadere due fattacci di cronaca. Il primo accade purtroppo il 5 novembre del 2005, quando un gruppo di ragazzi, di otto ragazzi australiani di origine libanese, picchia due bagnine australiani bianchi. Questo fatto di cronaca viene ricondotto ad una lettura di scontro di civiltà, l'ennesima prova di un'incompatibilità fra culture, fra la cultura medio orientale e quella occidentale bianca. E questo è il racconto che ne viene fatto da parte dei media. Purtroppo poi questo sentimento, questo racconto, che poi è appunto xenofobo, giunge ad una conclusione una settimana dopo, quando circa 5.000 persone si regano nella spiaggia dove erano accaduti i fattacci, armati, qualcuno di spranga, qualcuno di bombe carta, per picchiare la popolazione medio orientale o quelli che avevano i tratti somatici medio orientali. Questo è un fatto che sconvolge la coscienza australiana in qualche modo, svella un razzismo spesso nascosto o malcelato e porta quindi il governo a intervenire attivamente. Il governo cosa fa? Supporta un'organizzazione no profit che si occupa di favorire l'integrazione delle persone con differenti background nelle spiagge e questa organizzazione no profit contatta Eda Zanetti. Le chiede di realizzare dei burchini per favorire la presenza delle donne musulmane in spiaggia. L'operazione è un successo. Le ragazze musulmane tornano a frequentare la spiaggia e iniziano addirittura a iscriversi come bagnine, un fatto totalmente inaudito. Viene addirittura intervistata la prima bagnina australiana di fede musulmana, che tra l'altro è una ragazza che dai 14 ai 20 anni aveva indossato il burka, poi avendo avuto la possibilità di andare in spiaggia col burchini era passata al burchini e aveva deciso di diventare bagnina. È una storia quindi di successo. Il burchini vende nel mondo, diventa un caso in Australia, inizia ad essere venduto da persone di fede musulmana, da persone di altre fedi e da persone che semplicemente lo vogliono utilizzare per praticare sport acquatici in maniera più comoda. in Australia, primo paese al mondo per casi di tumore alla pelle e quindi il burkini utilizzato per proteggersi anche dai raggi ultravioletti. Non se ne parla più tanto il burkini, se ne ritornerà a parlare solo nel 2016, quando alcuni comuni francesi decidono di vietarne l'utilizzo, rifacendosi a una laicità di Stato. Non mi voglio dilungare troppo sulla laicità di Stato francese, è molto ideologica, è molto rigida, è una religione di Stato da tutti gli effetti, come sappiamo. La cosa interessante però è che in qualche modo, in questo senso, queste ordinanze vengono ricondotte a due fattori in Francia, a tre fattori. Primo, aspetto igienico-sanitario, che è considerato il problema primario. Secondo, il problema di carattere securitario. E terzo, il problema della laicità. Il caso francese, ripeto, è molto interessante perché presenta delle peculiarità rispetto proprio al concetto stesso di laicità. Quindi, insomma, è molto complesso. Tra l'altro, nel 2016, queste ordinanze sono in qualche modo legate a due fenomeni. Uno, gli attentati islamisti che avevano colpiti alcuni comuni francesi. Due, il fatto che si stava per avviare la campagna presidenziale. E quindi serviva in qualche modo una misura mediaticamente importante, scusate. Il caso secondo me più interessante è quello italiano. In Italia non è stato molto diffuso il Burkini per tante ragioni. Però la cosa curiosa qual è? Che vi ho detto delle ordinanze francesi che si sono state nel 2016. In Italia la prima ordinanza comunale specifica contro il Burkini è del 2009 ed è stata realizzata dall'allora sindaco leghista Buonanno nel comune di Varallo, in Valsesia, in Piemonte, perché a suo dire bisognava fermare appunto questa diffusione, eccetera. Buonanno realizza questa ordinanza, chi va contro questa ordinanza ovviamente riceve delle multe. Spoiler, ad oggi non ci sono mai state delle multe a Varallo, comune appunto di 6.900 abitanti. Effettivamente, probabilmente questo tipo di ordinanza non è stata legata ad un'presenza reale delle persone, delle donne musulmane lì che indossavano il Burkini, ma forse, azzardo, più per questioni mediatiche se non addirittura ideologiche. Il caso secondo me interessante rispetto a questo è che in qualche modo il Burkini, come vi ho già detto, è un indumento utilizzato per fare pratica sportiva, utilizzato per fare surf, per nuotare, per appunto fare il bagnino e per trovarsi, per praticare sport in maniera più comoda in qualche modo anche in spiaggia. Come vi ho detto nasce in qualche modo come strumento per favorire la presenza musulmana lì nelle spiagge francesi. In realtà però in questo senso si lega anche con altri indumenti e con altri limiti rispetto alla pratica sportiva. In questo senso secondo me è interessante anche al tema del giorno, tema di oggi, sport e resistenza. Perché? Perché così come l'ordinanza che viate al Burkini in qualche modo ostacola la pratica sportiva per quelle donne, così anche nella Francia, prima vi accennavo alla laicità francese, dovete sapere che in Francia per esempio c'è il divieto di indossare, insomma simboli religiosi negli spazi pubblici e questa legge per esempio intacca profondamente le calciatrici francesi che indossano l'hijab. Nel 2014 la FIFA toglie il divieto per le calciatrici di indossare l'hijab. La Francia è l'unico paese europeo a mantenere questo divieto. La cosa curiosa qual è? È che questo divieto in Francia, della federazione francese, non riguarda tutte le atlete, ma riguarda solamente le atlete di nazionalità francese. Questo che significa? Significa che adesso nel 2024 ci saranno le Olimpiadi, le atlete di nazionalità diversa da quella francese, vogliono indossare, vogliono gareggiare usando l'hijab, lo possono fare, ma non lo possono fare le atlete di nazionalità francese, che è una discriminazione vera e propria nei confronti di queste ultime. Queste ultime però non sono rimaste con le mani in mano, come si suol dire. Si sono aggregate, si sono organizzate in una comunità, in un'associazione, appunto l'hijab, che in qualche modo non solo contrasta questa norma specifica discriminatoria della federazione, ma chiede in qualche modo di rivendicare, loro chiedono di rivendicare i loro diritti in quanto donne, in quanto musulmane e in quanto calciatrici. Quindi in questo senso secondo me, quando parliamo anche di indumenti religiosi o meno e dei loro divieti, non stiamo parlando solo di un pezzo di stoffa per intenderci, stiamo in qualche modo parlando anche di una sorta di diritti che allo stesso tempo vengono negati. Il caso italiano per questo secondo me è anche emblematico. Chiudo sul caso italiano molto velocemente. L'ordinanza del comune di Varallo da parte di Buonanno viene contrastata poi dal giudice di Torino, perché? Perché in Italia, a differenza della Francia, non abbiamo delle leggi specifiche contro il Burka o contro il Burkini, né tantomeno contro l'ijab, perché in questa materia ci si rifà alla legge reale del 1977, che sostiene che si possono vietare gli indumenti che coprono il volto e che quindi rendono impossibile riconoscere quella persona. Nel caso specifico né il Burkini né l'ijab coprono il volto, non impediscono il riconoscimento della persona e quindi non possono essere vietati. L'ordinanza del Buonanno viene criticata perché, uno, secondo il giudice di Torino, il Burkini non crea problemi di carattere igienico-sanitari, è nella stessa stoffa, è fatto esattamente come una mutata subacqueo, viene utilizzato nei luoghi di balneazione e quindi non crea problemi. E due, non crea problemi di carattere securitario perché, appunto, la persona che lo indossa può essere riconoscibile. Aggiungo io, è forse anche più riconoscibile, creando anche una situazione di paradosso. Perché ci deve interessare questa storia? Perché è stato presentato, secondo me, dai media come, appunto, un indumento islamico, eccetera. In realtà non è così. Numeri alla mano ci dicono che il 60% delle clienti sono di fede musulmana, il restante 40% è composto invece da donne di altre religioni, prevalentemente di religione ebraica, da donne che hanno subito interventi invasivi o, appunto, da donne che vogliono coprirsi dai raggi ultravioletti. I suoi mercati più importanti sono il Canada e sono gli Stati Uniti e prevalentemente nei paesi musulmani non è diffuso, anzi, spesso gli viene preferito il Burka. E quindi il suo divieto, secondo me, non riguarda solo le donne musulmane, non riguarda solo le donne, secondo me dovrebbe interessare tutti quanti noi, insomma. Quindi questo. Grazie. Adesso introdurrei un attimo la questione più meramente palestinese. Vorrei chiedere ad Alba, ciao Alba Nabulsi, esperta di politiche di genere e di sviluppo locale, attivista italo-palestinese. Vorrei chiederti se ci fai un po' un quadro di quello che è dello stato attuale dell'occupazione in Palestina e di come in questo contesto si possa inserire lo sport. Grazie a Valentina, grazie a Davide per questo escursus molto interessante in cui vedo anche tanti, diciamo, ritornelli con alcuni temi che sono presenti anche nella società palestinese, anche se trattati in altro modo. Io oggi vorrei cercare di dare dei cenni appunto rispetto a quella che è la condizione delle donne in Palestina all'interno delle dinamiche sportive, quindi appunto cercare di problematizzare quella che è una dimensione di genere all'interno dello sport all'interno di un contesto che non dobbiamo dimenticare è un contesto di apartheid e occupazione. Quello che è molto interessante, secondo me, è vedere che all'interno delle definizioni identitarie di popolo, di nazione, il gioco sportivo, in particolare quello calcistico, rappresentano un grande fattore di identificazione. Questo non soltanto all'interno dei gruppi, all'interno delle squadre ma anche quando queste squadre si confrontano poi all'estero con altre nazioni. Quindi c'è un riconoscimento che va, diciamo, da sé con il fatto di costituirsi attorno ad un riferimento nazionale, ad una bandiera piuttosto con l'identità di popolo e dall'altra parte c'è anche il fatto di riconoscersi attraverso il fatto di proprio entrare in competizione con altri soggetti. Quello che è interessante in riferimento allo sport in Palestina dal mio punto di vista, visto che mi occupo principalmente di questioni femminili di genere, è proprio considerare come l'identità femminile all'interno dello sport, quindi appunto riprendendo il tema dello sport come un luogo, l'accesso allo sport come un luogo emancipatorio per il femminile a prescindere da quello che è l'estetica della donna, il costume, la tradizione o la cultura nella quale si inserisce. Dobbiamo sapere infatti, non so quanti di voi siano familiari con il contesto palestinese, sicuramente se siete qui avete una certa sensibilità e una certa vicinanza, però dovete sapere che in Palestina ci sono diversi luoghi di celebrazione di quelli che vengono considerati gli eroi nazionali. Abbiamo una celebrazione che avviene attraverso gli atleti, attraverso i cantanti, attraverso i poeti, che vengono considerati fondamentali, anche per esempio nel caso della recentemente scomparsa e compianta Sherina Boakla, anche di persone che si siano distinte nell'ambito dell'informazione, del giornalismo e della comunicazione. E poi dall'altra parte ci sono quelli che vengono considerati eroi nazionali nel senso più tradizionale del termine, quindi quelli che hanno partecipato a delle forme resistenziali contro l'occupazione. Quello che è interessante è che molto spesso le donne palestinesi che devono confrontarsi sia con una società certo molto tradizionale che molto spesso hanno degli ostacoli che derivano dal contesto esterno, quindi quello di essere delle donne in una situazione di occupazione, di spesso pagare un prezzo molto elevato per questo, anche più alto di quello che pagano gli uomini. Dall'altra parte ovviamente sono confrontate a delle dinamiche tradizionali, a delle dinamiche patriarcali che trascendono appunto le nostre società. Inaspettatamente attraverso lo sport però diventano protagoniste nazionali, portano allo standard della Palestina. Questo accade perché all'interno si crea una sorta di vulnus, tra questo ritornello patriarcale praticato al contempo da una società tradizionale e da una società dall'altro canto occupante e militarizzata, in cui l'atteggiamento punitivo dell'esercito israeliano si concentra soprattutto sugli atleti uomini. Atleti uomini a cui molto spesso viene rifiutato il permesso di lasciare il paese, quindi il permesso di viaggiare, o che addirittura cadono come vittime del conflitto e quindi perdono la vita. Per questa ragione, una ragione un po' particolare, insomma, il corpo femminile così controllato, così, appunto, ridimensionato da controllo sociale, da dinamica di occupazione, da elementi culturali, eccetera, riesce a sfuggire al controllo nella sua dimensione sportiva. Questo è un punto che trovo molto interessante. Nel 2008 assistiamo al primo torneo femminile, composta da squadre femminili, Betlemme contro Ramallah. Entrambe le squadre, quello che è curioso notare, entrambe le squadre hanno esponenti di cristiani e musulmani, cristiani e musulmani al loro interno, e contrariamente a quello che è un po' l'immaginario della classe popolare che comincia a fare calcio, che si emancipa attraverso il calcio, nel caso del calcio femminile palestinese sono soprattutto donne che vengono dalla classe media. E nonostante, appunto, tutti gli ostacoli che possiamo analizzare anche all'interno della società palestinese, vediamo comunque che le donne vengono considerate da sempre come eroine rappresentanti della patria. Ho fatto il caso di Sherina Buakla, posso fare decine di esempi di persone che si sono distinte all'interno della poesia, della letteratura, dell'immaginario collettivo e che sono donne. Quello che è cruciale è capire come lo sport che svolge ovunque un ruolo cruciale nella costituzione dell'identità nazionale, come dicevo soprattutto il calcio, si collochi in maniera originale in questo crocevia, trasporto, colonizzazione, diritti di genere. Quello che dovete sapere infatti è che se per la maggior parte delle squadre vittoria significa poter vincere contro uno sfidante, nel caso delle donne palestinesi del calcio femminile, vittoria significa semplicemente riuscire a viaggiare, riuscire a rappresentare la propria nazione all'estero, riuscire ad identificarsi come palestinesi, riuscire a sventolare la bandiera palestinese senza incorrere in delle conseguenze penali e quindi questo stravolge quelli che sono anche gli equilibri di genere all'interno della rappresentazione della nazione e lo trovo un elemento molto interessante soprattutto nell'assenza di una nazione riconosciuta come tale. Appunto dobbiamo confrontarci con una realtà, quella palestinese, che essendo soggetta a occupazione sia nelle sue dinamiche diasporiche che nelle sue dinamiche interne alla palestina storica, in assenza di appunto istituzioni nazionali capaci di unificare una popolazione, lo sport svolge un ruolo cruciale. Un ruolo cruciale che non è quello che siamo abituati a accordare agli elementi cardine dell'eroismo nazionale, che quindi sono celebrati soprattutto magari all'interno di figure che si siano distinte in dinamiche militari o comunque in dinamiche di affermazione fisica o anche violenta. Siamo dentro un altro campo, siamo dentro un altro regime di identificazione con appunto una rappresentanza identitaria e trovo che questo cambiamento di prospettiva portato avanti proprio dalle donne sia interessante perché le donne attraverso lo sport riescono quindi ad affermarsi non come le vittime di una nazione perduta o i soggetti deboli oppressi al contempo da una negazione di libertà di movimento, di identità nazionale, di capacità di spostarsi sul proprio territorio, di avere accesso alle proprie risorse e tante volte anche alla propria casa che viene demolita come stiamo vedendo proprio in questi giorni con l'aumento della repressione a massa ferriata e nemmeno come diciamo le vittime sacrificali di una tradizione patriarcale antica molto spesso violenta nei loro confronti. Quindi volevo dare questo suggerimento, questo spunto lasciando la parola a Camilia che appunto approfondirà la questione dello sport in particolare per i palestinesi del 48 e cercare appunto di apprezzare con voi questo ruolo insolito in atteso che attraverso lo sport sta permettendo a donne di diverse appunto di diverse collocazioni di potersi rappresentare e rappresentarsi come palestinesi ecco quindi trovo interessante vedere come molto spesso lo sport ci permetta in maniera anche in attesa no perché proprio attraverso magari l'esercizio di una maggiore libertà di movimento rispetto ai colleghi uomini di di appunto emancipare quella che è una condizione femminile che spesso tendiamo a rappresentarci come limitata o limitante. Grazie. Ritorno a parlare della mia esperienza o l'esperienza dei palestinesi che vivono in un apartheid da quasi da più di 70 anni dentro a uno stato che non è il loro ma che sono obbligati ad avere la cittadinanza perché se non ce l'hanno perdono casa loro perdono la loro terra quindi piuttosto come la sottoscritta abbiamo la cittadinanza purtroppo israeliana però quella è la mia terra la mia terra si chiama palestina dal nord al sud dal mare al fiume. Cosa succede? Che quando si vive in un paese di apartheid ci sono delle varie differenze tra la gente che vive in quel paese quindi paesi arabi hanno infrastrutture molto alla vecchia maniera le città di popolazione non palestinese sono molto più aperte hanno molto più intrattenimenti hanno tante cose e anche lo sport è diverso tra palestinesi e israeliani che non vivono nei paesini piccoli una piccola chicca c'è un solo paese città anzi scusate vera città araba in tutto l'Israele che è tutte le altre sono chiamate cittadine città piccole o sono mix mixate perché sono state anche quelle colonizzate dagli israeliani vuol dire che se io inizio a fare uno sport da piccolo o da piccola comincio a piacermi quello sport voglio continuare con quello sport l'unica opzione che ho è andare a iscrivermi a una scuola professionale per israeliani perché nel mio paesino non ci sono più queste possibilità perché si arriva fino a un certo punto io ho 37 anni quindi intanto vi parlo della mia esperienza poi vi parlo dei giovani di oggi che sono un pelettino più fortunati di me o di quelli della mia età quindi succede che questa persona va a studiare nelle scuole nelle città più così va meglio va a studiare nel nei posti un po più professionisti ambisce ad arrivare a un livello successivo viene bloccato perché viene bloccato perché non ha fatto il servizio militare è una bellissima scusa che usa lo stato israeliano per qualunque cosa vuoi un lavoro vai a leggere l'annuncio alla fine sotto c'è scritto che ci serve che tu faccia il servizio militare vuoi far parte partecipare alle olimpiadi devi fare il servizio militare vuoi far parte di una squadra di calcio devi far parte del servizio militare e quindi si arriva che un palestinese non riesce abitante nei nei territori occupati non riesce mai ad arrivare al livello che vorrebbe arrivare eccetto per questa bellissima squadra che si chiama abna sahnin che vuol dire i figli di sahnin sahnin è una cittadina non è non è una città perché gli israeliani vietano che anche se ci sono dei terreni dove si possono costruire case quindi amplificare e ampliare scusate la il territorio e farla diventare una città li è vietato costruirci sopra in questa bellissima cittadina c'è l'unica squadra palestinese dentro la serie a israeliana e ovviamente hanno tantissime sanzioni dopo ogni partita perché ovviamente si portano dietro le bandiere palestinesi e vi immaginate tutte le multiche si possono prendere appena escono dallo stadio e anche mazzate altro ma la resistenza è anche questo e abna sahnin è conosciuta in tutto il mondo arabo e i palestinesi sono anche molto fortunati perché in tutte le partite di tutti gli stati arabi anche quelle di serie minore la palestina è sempre o c'è una bandiera palestinese e in qualunque stadio del nel mondo arabo ma questa squadra è una squadra che è diventata così forte da arrivare quasi a essere delle prime nella nella serie quindi noi palestinesi siamo tutti la che aspettiamo che arrivi il giorno che si prenda anche la coppa perché alzare la bandiera palestinese con la coppa potete capire l'emozione che può provare tutto tutto il popolo e un giocatore palestinese non può giocare in una squadra oltre al fatto che non vuole giocare ma anche volesse o anche potesse non viene neanche ingaggiato non viene neanche ingaggiato da squadre europee o di altri paesi perché c'è sempre l'accordo sionista con con gli altri paesi per cui non ci sono neanche sbocchi per per quanto riguarda i calciatori bravi ma che non c'è oltre alla serie b perché l'unica nella serie a e tutti gli altri restano a giocare nel nel piccolo vi parlo un po anche degli altri sport se io voglio io no ma la figlia di mia cugina che penso molti di voi conoscono per un video famoso che è uscito un paio di anni fa su instagram o su youtube era allora perché penso non ci fosse neanche instagram di una ballerina a trieste che suo papà in arabo le incitava a ballare con questo violinista che stava suonando bene sono fortunata perché sua mamma e mia cugina e lei di ramallah con cittadinanza purtroppo israeliana perché entrambi i genitori sono sono israeliani hanno una casa nel nord della palestina e per mantenere quella casa si deve tenere la cittadinanza e lei pur avendo tutti i privilegi che poteva andare a gerusalemme a studiare nella scuola lei da già da piccola continuava a dire ai suoi genitori io voglio imparare con tutte le mie amiche che sono palestinesi qua a ramalla e voglio imparare tutto in questa scuola arrivata alle superiori si è resa conto che questo suo sogno non poteva continuare purtroppo solo a ramalla perché le insegnanti arrivavano solo fino a quel punto lei era arrivata al punto che non riusciva più ad avere qualcosa in più quindi ogni giorno lei passava dal checkpoint di calandia che se non conoscete vi invito ad andare a scrivere su youtube semplicemente calandia e vedere tutto quello che passano i palestinesi per passare da quel maledetto checkpoint lei tutti i santi giorni piangeva per tre ore andata e ritorno perché lei voleva fare quella quella sua passione ballare ma doveva andare a gerusalemme doveva andare in quella scuola di gerusalemme e tutti i santi giorni lei doveva passare per le torture che passa qualunque palestinese anche se lei aveva la cittadinanza ma loro non frega niente perché basta che sei palestinese e e devi passare tutto quello che che passano gli altri finisce la scuola gerusalemme vuole andare oltre andare oltre voleva dire far parte di una associazione di ballerine israeliane era fuori discussione quindi quello che ha fatto lei è andare a berlino lei ha continuato la sua strada a berlino attualmente è ritornata in palestina ma questo è per dirvi tutto quello che hanno fatto anche tutti gli altri palestinesi che vivono vivevano vivono anche nel territorio occupati per non perché non c'è oltre a quel punto israele non mi fa arrivare bene quella è la mia passione io vado a impararla all'estero sono vanno in anche in cina in giappone a imparare arti marziali vanno in russia in altri paesi per imparare la danza e basket tutti i tipi di sport che vi potete immaginare vanno l'imparano all'estero e adesso tutti i bambini sono così fortunati ad avere degli insegnanti che sono palestinesi che hanno voglia di insegnare ai bambini e hanno la possibilità hanno una strada un po più aperta per porter portare questa bellissima bandiera in giro per il mondo in futuro attualmente ci sono sempre i lintoppi perché come dicevano prima per uscire dal paese non è facile anche se hai la cittadinanza israeliana se esci per un motivo che a loro non va bene ti bloccano non ti fanno partire ti fanno dei problemi ti fanno sentire di serie c o di perché b sono perché voi dovete sapere che quando c'è l'apartheid c'è apartheid cioè quando c'è il razzismo dentro nel sangue diventa veramente di classi e i palestinesi non sono neanche i secondi perché tra gli israeliani stessi si classificano ok ci sono i quelli che vengono dall'est europa e dalla russia poi vengono gli espanici dopo di loro vengono gli etiopi e dopo ancora vengono quelli marocchini e dopo ancora vengono gli arabi ok anche tra gli arabi ci sono le varie classi trattano meglio i cristiani i drusi per primi perché i drusi fanno il servizio militare perché un loro antenato ha fatto un accordo con lo stato adesso per fortuna ci sono molti che rifiutano e ci sono degli avvocati tipo l'avvocato di strada nostro che aiutano i ragazzi che non vogliono fare servizio militare perché si sentono palestinesi sono uscita o deviato un po dall'argomento però è molto interessante questa cosa il piano di israele allora e ancora oggi era di allontanare un po alla volta la gioventù dalle proprie radici ciò che non ha messo in conto è che la nuova generazione le nuove generazioni sono ancora più attaccati alle radici dei loro genitori e loro sono quelli che attualmente stanno dicendo no io non vado a fare servizio militare e il mio fratello come posso andare a spararli contro quindi per fortuna hanno questi avvocati che li aiutano in tutti i modi perché non vogliono fare il servizio dopo i drusi vengono i cristiani dopo i cristiani vengono purtroppo i musulmani sono sempre in tutto il mondo e sono cristiana tante cose che vengono affibbiate si dice ai musulmani come retrogradi è una cosa di religione sono questioni di cultura io fino penso finché non sono venuta in italia e poi per scelta mia anche i primi anni che ero in italia io al mare andavo con la maglietta e il pantalone perché culturalmente io non mi sentivo a mio agio ad andare vestita con un costume intero e un bikini non c'entra niente nella religione sono cristiana la stessa cosa lo facevano tutte le mie cugine non è una questione di religione anche questione di cultura certe volte non è che io mi copro perché me lo dice la religione basta è un mio credo è un io che non mi voglio far notare in un paese dove tutte le ragazze vanno con la maglietta e il pantalone è ovvio che se io vado in un paese dove sono tutte con la maglietta e il pantalone sono l'unica che si mette in bikini attiro più l'attenzione in quel modo ok quindi è semplicemente una questione di voglia di non farsi vedere o essere in mezzo alla mischia come tutte le altre perché è ovvio che se mi vesto diversa poi finisce che attiro di più l'attenzione che io non voglio poi se dopo ho iniziato a volerlo e mi sono messa in bikini non ci sono problemi stessa cosa è anche per le ragazze musulmane non è che sono obbligate sono loro che decidono di vestirsi come come vogliono ecco e ho anche deviato finisco e ringrazio tutti per la per la presenza e se poi avete delle domande siamo qua grazie camilia e adesso vi vorrei introdurre muhannad kafisha ho fatto prima delle ripetizioni di arabo di pronuncia araba al volo lui è un giornalista commentatore sportivo di ebron l'abbiamo conosciuto nella nostra ultima carovana e avremmo voluto averlo qui con noi presente di persona però purtroppo non avevamo i tempi materiali per richiederne il visto però ha voluto lo stesso mandare il suo contributo attraverso questo video qui hallo everybody my name is mohanad kafisha i am from hebron palestine i'm a sports commentator working for the sports national tv of palestine i'm here today to talk to you about sports in palestine and how sports in palestine is being used as a way of resisting the israeli occupation our national team palestine participated in the asian cup for the first time in history in 2015 and it was in australia our national team during that competition where the second most supported team in the stadium after the national team of australia which was playing on its stadiums between its fans so that time i remember that the international institutions or media institutions the international newspapers were talking about the national team of palestine and spoke about the situation in palestine and how the national team of palestine came to participate in the asian cup also that palestine is occupied and our national team is suffering so much as young palestinians playing in the local league in palestine and i remember that time all the international media institutions were talking about palestine everyone was talking about palestine something the international media didn't mention palestine when it comes to politics by sports or through sports they talked about the national team of palestine and the palestinian cause and the israeli occupation in palestine when our national team participated in the asian cup another story a friend of mine who plays for the national team called sam marabi a few years ago he was arrested when he was coming back with the national team of palestine from qatar from a friendly camping on the border coming to palestine he was detained then he was arrested he was kept in jail for eight months eight months eight months he couldn't play football and that time i remember his brother is also a football player and how much he suffered when he didn't have his friends his brother out of jail and he was injured palestine and referees are being targeted stopped not allowed to go to the stadiums also they they travel with their cars with a card that says that their international referees and also they are recognized by fifa with their cards and dresses and uniforms but israeli soldiers always when they see this they they tend to detain the palestinian referees and not only that also palestinian teams when they go to play in the local league traveling between palestinian cities they suffer from the same problem while i was working in the stadium many times the stadium was attacked by the israel army throwing and shooting tear gas toward the players where the game had to be stopped and this was on camera the key the games were were on tv the palestinian football association headquarter in ramallah was invaded was searched palestinian palestinian sports or palestinian sports has been very much affected by the occupation such as for example one story so many sports equipments we are trying to bring into inside of palestine for the football association we are not allowed to have them as palestinians until now they are being kept for years under the control of the israel occupation in tel aviv and palestinian the palestinian football association is not able to bring them in there are six israeli teams from the israeli settlements illegal settlements in the west bank playing in in different israeli football leagues uh and fifa hasn't done anything yet about about this uh also um palestinian footballers are being targeted being shot and killed a few years maybe in 2013 as i remember 2014 a palestinian player who played for the olympic national team under 23 years old called muhammad al-qatri 20 years old uh was shot and killed by the israeli army in ramallah a palestinian player called muhammad ali name 21 years old was shot and killed three weeks ago by the israeli occupation uh who plays for al-qadr football team near beit lahim he was shot in the street and killed by the israeli army palestinian uh as i said palestinian sports is being is bringing is being targeted and uh palestinian stadiums are being targeted and if i talk about about gaza for example in 2014 attack on gaza uh more than 35 palestinian sports people were killed during the attack on gaza palestine stadium in gaza was completely destroyed by the israeli occupation and and by the israeli airplanes uh so palestinian uh uh sports in gaza is being even more affected uh by the israeli occupation and palestinians and as palestinians and palestinian sports uh people we are using sports absolutely to resist the israeli occupation to raise the palestinian flag in different uh competitions around the continent in asia or around the world when we play in the qualifiers of the of the of the world cup uh my friends i remember when we played against uz pakistan in the uh fifa world cup qualifiers uh this qualifiers to qatar 22. uh my two friends mohammad bala and muhammad wadi from gaza they play in egypt were not allowed uh to join the national team in inside of the west bank to play against uz pakistan so we played that game without any striker we played that game without the player number nine who is a striker so uh and we still want to zero but many times when when palestine national team is about together because our 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 national team is basically uh from the west bank league from gaza league from palestinians in in diaspora refugee palestinians palestinians who play abroad from the west bank from gaza from other places we are not able as palestinians to gather the whole national team in the west bank we are not allowed to go to gaza for example so the players from gaza are not allowed to come to the west bank they need a special coordination and israel they don't give permissions to them to come most of the time uh palestinian refugees who play for the national team of palestine when they want to come they cannot come to the west bank most of the time and when we have to go to play outside palestine some palestinian players sometimes are not allowed to cross the border we try to organize uh a game every year between a gaza team and a west bank team the winners of the cup uh last year i remember and every time we played it israel refused to let all the players to come inside the west bank from gaza team such as shubab rafah or khan yunis or in here like hilal al-quds or ahl al-khalil when they want to give to go play in gaza they are not allowed to go sometimes they only let 14 players or 12 players and sometimes nine players to travel to gaza to play out of 23 to 25 players from the team so israel is trying to make it impossible uh to to make this game happen uh such as other games football games in palestine um so not only this problem it's also it also goes to uh arresting players who come from gaza to play in the west bank when a team from the west bank signs them we are not allowed to have one league uh gaza has a special league and in the west bank we have a league so we have two leagues in palestine while on the other side if you look at the israeli teams they have one league they can go play abroad they can go have campings uh in in europe and in other countries uh while our our teams when they need to travel they have to suffer a lot we have to go to jordan and fly from jordan to be able to go outside to play games we also suffer from when we play against the different arab teams in the um you know asian cup competitions such as europe league in europe we have the second asian competition for for clubs israel don't allow these teams to come in with their full players so we sometimes suffer uh from this uh where where these teams cannot come in to palestine and then we face uh different decisions from the asian football association where they make us lose the game because not all the players of the other team could come in uh also we have zero control on the country and it's israel's control uh so this is the message of the palestinian sports people in palestine about sports in palestine absolutely there's so much to tell and try to bring everything and summarize everything in 10 minutes but i hope i could deliver the message of the palestinians to you especially the message of the palestinian sports to people in italy uh i would like to thank the organizers of this festival and talk and hope next year we'll be able to be there by person in person to be able to tell you more about palestinian sports which you have an amazing day and goodbye e grazie appunto anche al contributo di muhanad e lo sport adesso passiamo agli altri due ospiti della serata è spesso anche un modo per concentrarsi su se stessi per lavorare sul proprio corpo e trovare il modo per superare gli ostacoli vorrei cominciare con la storia di abdallah ciao ciao ragazzi uh of course i'll speak english so first of all i'm abdallah i'm from gaza parkour team uh from gaza city and uh first of all nice to meet you all sono dalla della città di scusami quella non l'ho abdallah e molte grazie sono sono molto felice di essere qui con voi first of all uh before i start i really want to thank everyone that who's really in charge about the festival and everyone by his name and i it's my pleasure it's of all to be here and to sit in front of you guys sono molto felice di essere qui voglio ringraziare tutti gli organizzatori del festival e tutte le persone che mi hanno permesso di poter parlare qui oggi first of all i'm 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 25 years old i i'm parkour athlete so i started in 2005 but but from the beginning i'm someone who's kind of crazy a bit who really like such danger somehow so so i started with training some kung fu stuff at the beginning so after i stayed like for one year and after that i just discovered that there is two people that the from gaza city it was 2005 and they were talking about parkour quindi ho 25 anni e ho cominciato questo sport in maniera un po un po pazza e sapendo che in a gazza non c'erano molte persone all'inizio quando ho cominciato a praticarlo eravamo solo in due mentre adesso si è un pochino ampliata la situazione e ha cominciato dal 2005 a praticare questo sport che pratico tuttora so they met us because we were i was with the with friends and they were saying that there is a like a sport which is a new because it was really new for us and we didn't really know even about it so they said that ok there is a procura we were just watching in youtube which is there is one guy here he did a film which is one david bill is the creator of the procura and they said something that we would like to do a team which is called gaza parkour team quindi si all'inizio non sapevamo di questo sport non sapevamo quasi nulla abbiamo cominciato ad informarci attraverso i video di youtube poi c'è stato molto utile seguire il gli insegnamenti di david david bill david min france guy e da lì abbiamo 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 creato il primo gruppo il primo team gaza parkour che si chiama gaza parkour team so after that they just you know they said that we want to create a team which is called gaza parkour team so we started this parkour it was really the first team in in let's say arab countries that we started since 2005 so after that we just were trying to to train and we were trying to find such places for for doing this kind of sport because the beginning it wasn't really something easy for us as palestinians to do it all'inizio non è stato per nulla facile trovare dei posti dove allenarci però abbiamo continuato proprio perché questo sport non era conosciuto e quindi anche noi dovevamo scoprire i posti e i luoghi dove potevamo allenarci so after that the best place for us that we can really train and we can really feel comfortable and freedom to do it which is you know cemetery a cemetery abbiamo trovato un posto dove eravamo veramente contenti e dove ci sentivamo sicuri di allenarci ed era un cimitero i know that it's kind of strange because there the people but at the same time it was the only place for us that we can really feel comfortable and free just to do and to jump and move from point to another sembra molto strano però per noi era l'unico posto dove ci sentivamo veramente sicuri e tranquilli e dove potevamo praticare questo sport saltando da una piattaforma all'altra da un posto all'altro in tranquillità so we started in a really hard situation because there were let's say no equipment so there is no safety things that we can use for also so of course i got injured and all the team got injured from hit to toy ovviamente in questo sport e dove noi lo pratichiamo non abbiamo la possibilità di utilizzare delle strumentazioni di sicurezza e tutto il team tra cui lui si è infortunato durante gli allenamenti di questo sport so like after that we were trying to let's say to move on and not really giving up and just trying to do to watch on youtube sometimes such such skills what people they can do and how they are doing this kind of crazy you know stuff at the beginning especially and after that we just trying even to create such things from us as as a palestinians ah beh ovviamente seguendo gli insegnamenti su youtube abbiamo cercato di praticare sempre sempre più e sempre meglio tutte quelle mosse quei trick che vedevamo nei video e anche man mano che acquisivamo esperienza di fare qualcosa di nuovo di creare qualcosa di nuovo che fosse veramente nostro and of course as i'm someone who's really from galaxy i've experienced of course like four wars and that's that's normal and i think that everyone here knows about it which is 2008 2012 and 2014 and even 2020 and 21 which is the last war one of the wars that's already happened is started it is started the way that i could really see it in front of my eyes one of what did i say hello no no because i said that um yeah we have experienced four wars in gaza city which is started in 2008 and also 2012 and 2014 and of course 20 and 21 so we have started in the city of gaza we have begun to practice different activities sportive in 2008 and then there was an event in 2014 and also in 2021 so through all the wars we have been able to practice this sport in 2021 and 2014 and all the attacks israeliani and all the war and the war 2014 is started in front of my eyes the war 2014 it is started in front of my eyes ok la la guerra nel 2014 iniziò proprio davanti ai suoi occhi see because i will tell the story because we were training in a place that there is sand and it's even the the video can really see it in the youtube which is bk gaza we were training normally and let's say we were enjoying the time if it was okay if it was nice and suddenly just pom next to us it was really really next to us and you can really see it because we could see how how they were pumping for let's say chilling for three four times and this is the war has started so of course at the same time we could really see what really happened and because we had kids and at the same time they were school that's really near us where we were training and we could see that everyone just get out of the school that everyone just got crazy and how's the situation especially you can really see that in the eyes of the children a quel tempo noi eravamo ancora eravamo cresciuti però eravamo ancora a scuola e soprattutto negli occhi dei bambini abbiamo avuto modo di vedere la guerra così da vicino e vedere la paura e il terrore che creavano le persone attraverso il parkour noi cerchiamo di far vedere qual è la situazione nella città di gaza e di di trasmettere un messaggio a tutti e tutte di quello che viviamo noi e vivono tutte le altre persone in palestina e a gaza so after 2014 of course so many houses have been destroyed completely from the israeli occupation and at the same time this place is for us it was really the piece to do parkour sembra strano però la guerra ha portato anche una cosa positiva per loro perché buona parte della città venne distrutta e quindi le rovine linee della città erano il posto perfetto dove allenarsi so we're just trying to play in it we're trying to train in it because it's really good obstacles that we can really train a new parkour and at the same time it really let the journalist all around the world to see that and to like that and they come to gaza city just to film us during this kind of parkour and during what really so we can tell the story about gaza by doing parkour attraverso il parkour così sono riusciti a fare una grande pubblicità a quello che è il loro sport e a quello che succedeva a gaza perché molti giornalisti e molte persone che seguono il parkour a livello internazionale vennero per vedere quello che loro stavano stavano facendo a gaza e quello che loro facevano nelle macerie grazie al parkour io mi sento veramente libero quasi quasi come se volassi e grazie a questo sì sono riuscito a esprimere veramente me stesso e penso che il parkour ci permetta quasi di vivere come se non ci fosse un confine so i was trying you know to train and parkour it's the movie from play to another by use about a string so also and it's it's moving obstacles you can really you know go through the parkour and you can just move on and pass any obstacles you really have it so i it's also the same for me i'm just trying to pass any obstacles that i have in life so i'm doing the same in parkour because it gives everything easier and gives you the freedom to do whatever you want nel parkour ovviamente bisogna oltrepassare di diversi ostacoli anche in movimento come può essere un autobus o delle macchine e quindi questa è anche la filosofia di vita che loro cercano di portare avanti ovvero attraverso il parkour andare al di là di tutti gli ostacoli che la vita gli pone e continuare con il loro percorso and also as someone from the city i really have to agree with mohammed which is the genius that he was just talking right now that for us as a palestinians and as someone from gas city it's not it's kind of impossible to go to ramallah and to the west bank because for example we got invited many times to do a workshop or whatever in ramallah and they denied and they refused voglio ringraziare mohammed perché molte volte noi abbiamo provato ad andare a ramallah per fare varie attività vari workshop o anche solo per allenarci e molte volte ci è stato negato l'accesso da parte dell'occupazione israeliana e lui ci ha aiutato molto in questo percorso and it's not just about palestine it's not inside palestine that that we can't really go there we were also supposed to to participate in many workshops and in many like festivals and challenges around the world and we got so many invitations but it wasn't you know at the beginning for me and for the other guys we got really so many but we got refused from the emphasis all around the world mostly abbiamo ricevuto moltissimi inviti anche internazionali in moltissimi paesi per partecipare a workshop e a festival e attività sportive relative al parkour però purtroppo l'occupazione israeliana ci ha sempre bloccati e siamo dovuti rimanere nel nostro paese e non abbiamo potuto partecipare a questa attività quindi quando parliamo della richiesta della visa non è solo per andare all'estero ma anche per i confini che ci sono all'interno della città di Gaza e tra la città di Gaza e la Palestina stessa Gaza è una grande prigione aperta e perché non voglio parlare molto molto e c'è un uomo e penso che questo sarebbe davvero bello quindi voglio raccomandare tutto e voglio dire che sono molto felice che ho avuto la possibilità di andare fuori da Gaza non proprio perché voglio fuori da Gaza, no adesso cercherò di fare un riassunto e di chiudere perché voglio che anche Mohamed possa parlare però io sono riuscito ad uscire da Gaza e non solo per il fatto di uscire da Gaza e di non vivere più lì ma anche per il fatto di poter praticare lo sport al di fuori di quelle barriere non è facile vivere all'estero perché tutta la mia famiglia vive ancora lì però sto cercando di vivere la mia vita al meglio e di vivere libero per quanto possa quindi ho la mia visione, ho i miei sogni, ho i miei sogni, ho i miei sogni e sto davvero combattendo per la guerra e poi a fine mi sarei tornato a Gaza per sicuramente e sto cercando di andare a Gaza e mi cercando di combattere per Gaza da qui, da Italia sto cercando di combattere per Gaza perché prima o poi vorrò tornare là e quindi tutto quello che faccio è una una continua battaglia perché Gaza possa essere libera e spero che a fine possiamo fare così cose per Gaza e per la mia famiglia e sarò tornare lì in quanto possibile io spero che tutte queste attività che faccio mi permettano di tornare a Gaza liberamente il prima possibile ho avuto 8 mesi qui in Italia e è stato davvero il miglior 8 mesi ho incontrato persone davvero buone, la vista qui è davvero buona, tutto è davvero buono no, sinceramente, ho incontrato molte persone, ho visto molte cose, è stato davvero fascinato per me sono 8 anni che vivo in Italia e ho conosciuto... eh? 20 mesi ah, 8 mesi che vivo in Italia e ho conosciuto moltissime persone speciali che mi hanno aiutato in molto e sono felicissimo di questa esperienza, Dario mi ha aiutato molto e vi ringrazio e Valentina anche oh, thank you, thank you guys e lascio la parola a Daoud che ci racconta la sua esperienza ehm, giusto un appunto, ehm, cioè, siamo quasi in contrapposizione con la vecchia, con la vecchia guardia diciamo anzi vogliamo proprio che noi come giovani palestinesi possiamo essere ehm, possiamo cambiare le logiche che hanno sempre attraversato eh il movimento dei palestinesi in Italia ehm, giovani è importante pure questo dettaglio dato che a livello di comunità sempre ci viene dettato da anziani, da persone che comunque ehm, vivono ancora le logiche del passato, quelle di proprio di partito, dei palestinesi che erano arrivati in Italia, dei nostri genitori appunto, anzi vogliamo essere una contrapposizione, vogliamo portare una nostra visione della palestina e di quel che si può fare per la palestina e anche la nostra visione della nostra società in generale. a proposito di questo ehm, riguardo lo sport come resistenza penso che ehm sia sia importante ehm, allora da parte mia in generale ogni aspetto della vita è politica cioè che tu faccia qualsiasi cosa tu stai facendo politica, che tu ehm ehm, decidi di partecipare a qualcosa stai facendo politica che tu anche lo sport è politica, spesso si dice ah no fuori la politica dallo sport, no, no, anzi anche perché nel momento in cui si decide di mettere fuori la politica dallo sport in particolare in certi ambienti come può essere quello palestinese ehm, tu stai decidendo di chiudere gli occhi, stai decidendo di accettare lo status quo ehm, ehm, è lo status quo assolutamente lo vogliamo cambiare e lo sport in palestina come anche è stato detto negli interventi precedenti spero di non ripetermi troppo, di non ripetere troppo cose che sono già state dette e lo sport in palestina ehm, lo sport principale che si pratica è il calcio ehm e già il il calcio in Italia abbiamo la Serie A Serie A nel quale nella storia hanno giocato a squadre a partire da dal Torino ad arrivare a passare per la Roma ehm, ci ha giocato la regina e ha giocato pure il Palermo e il Catania insomma è un campionato nel quale partecipa tutto il paese possono partecipare tutti tutti gli italiani potenzialmente ehm ebbene, il nostro, come diceva prima anche il telecronista noi non abbiamo un campionato abbiamo due campionati e già questo fa capire come per noi praticare lo sport sia un grosso ostacolo e ok abbiamo messo c'è il campionato della striscia di Gaza e poi c'è il campionato della Cis Giordania però all'interno di queste due di questa divisione ehm abbiamo un un continuo problema perché sì ti fanno vedere le cartine no? quelli in cui abbiamo la ehm la palestina che è divisa in mezzo dai territori occupati a destra c'è la Cis Giordania a sinistra c'è Gaza con le colonie in mezzo che ci fanno diventare un arcipelago e tutto quel che volete ebbene quell'arcipelago in realtà è ancora più mh tutti i vari posti sono ancora più isolati rispetto a quello che viene presentato all'interno della cartina tutto ciò è figlio degli accordi di Oslo del del novantatré nei quali comunque ehm l'ANP ehm l'ANP ehm i tempi l'ANP ehm decide di ehm fare questo accordo assieme all'entità sionista nella quale si va a dividere ehm le zone teoricamente di nostra pertinenza si vanno a dividere in area A, area B ed area C l'area sarebbero quelle zone teoricamente a controllo sia ehm fra virgolette militare che amministrativo ehm palestinese le zone B controllo amministrativo ehm palestinese controllo militare israeliano le zone C sono controllo totale israeliano allora ipotizziamo due zone A Betlem e Ramal io sono di Betlem ehm io sono stato in palestina per due settimane tutta tutta la mia vita vado in palestina e scopro che c'è un cugino che è fortissimo a giocare a basket tant'è che gioca in serie A ok caso vuole che mentre io ero in palestina questo mio cugino va e deve fare la trasferta partita importantissima deve andare a giocare a Ramal zona A e zona A allora mi dice va a venire con noi, va a venire con noi e io gli dico certo vado, ne approfitto, mi faccio anche un giro a Ramal dopo la partita doveva iniziare ad un orario che non mi ricordo però in generale noi immaginiamoci le partite che ora iniziano la partita inizia alle 8.45 no? la partita di calcio serie A posticipo della domenica 8.45 la doveva iniziare ad un determinato orario noi partiamo con largo anticipo e troviamo che problemi ci sono per strada abbiamo un traffico incredibile perché era stato bloccato l'accesso tramite il muro verso i territori occupati quindi dobbiamo fare una strada tutta tortuosa dobbiamo cambiare strada dobbiamo evitare tutto questo traffico esagerato traffico figlio dell'occupazione e ad una certa cosa succede? succede che arriviamo ad uno di quei checkpoint che sono checkpoint ogni tanto nel senso che ci sono queste strutture nelle quali ogni tanto ci sono i soldati ogni tanto non ci sono non hanno un checkpoint fisso e beh in quel momento c'erano i soldati fermano il furgone il pulmino fermano il pulmino salgono iniziano a controllare vanno scendere fanno qualche qualche perquisizione corporea prendono i documenti vabbè immaginate chi di voi ha subito un posto una perquisizione immaginatela però con il soldato col fucile spianato insomma situazione non tranquilla prima di andare a giocare a pallone però vabbè nel senso direi che è molto secondario in questo caso arriviamo a Romallo arriviamo al campo arriviamo con un'ora e mezzo di ritardo rispetto all'inizio della partita in un campionato italiano normale finisce 0-3 a tavolino per la squadra che ha fatto ritardo perché ti devi arrangiare chiaramente in Palestina è normale questa cosa è normale viviamo con questa normalità figurati altro che 0-3 a tavolino siamo arrivati la partita è stata vinta dall'Islami Bethlehem è grande è stato bello però questa è una delle tante situazioni quindi nel momento in cui si parla anche di campionato in Cisgiordania allora Bethlehem e Ramallah sono città della Cisgiordania ok campionato della Cisgiordania non vuol dire che allora abbiamo le strutture abbiamo la possibilità di fare quel che vogliamo di giocare quando vogliamo come vogliamo no è tutto altro perché oltre a questo si aggiunge un altro problema perché c'è gli accordi di Oslo e non c'è solo gli accordi di Oslo c'è anche gli accordi di sicurezza gli accordi di sicurezza nei quali se arriva l'occupazione che decide che vuole entrare a Bethlehem zona A zona A quindi teoricamente una zona che non è di pertinenza per questi accordi di merda non è di pertinenza dell'entità sionista però se loro vogliono entrare possono entrare grazie a questi accordi cosa succede? succede che la polizia palestinese entra in caserma è in strada ci sono i soldati ci sono i soldati e ho cugino è stato picchiato è stato picchiato da dei soldati mentre andava ad allenamento e parliamo di Bethlehem non stiamo parlando di non lo so cioè di situazioni più più complicate stiamo parlando di zona A quindi anche quando abbiamo quella presentazione di quelle possibilità simile possibilità di normalità no la nostra normalità è un'altra cosa un'altra cosa comunque mi sto dilungando abbastanza su questo dettaglio prima il commentatore ha parlato di nazionale palestinese cos'è la nazionale palestinese? innanzitutto abbiamo una dopo tantissimi anni siamo riusciti a farci fra virgolette accettare dalla FIFA però che nazionale è? che nazionale è? essenzialmente è la nazionale della NP è la nazionale del del cosiddetto governo palestinese è una nazionale che non rappresenta i palestinesi perché? perché i palestinesi chi sono? partendo dal presupposto che? facciamo che io invece di avere i piedi quadrati avessi i piedi di Maradona io come qualsiasi altro ragazzo di seconda generazione così si dice di seconda generazione come qualsiasi ragazzo di seconda generazione che magari è buono a giocare a pallone viene chiamato dalle nazionali magari ha i due passaporti e può andare a giocare con la nazionale scegli la nazionale in cui giocare io ho il passaporto italiano e il passaporto giordano io non potrò mai giocare per la palestina come gran parte probabilmente delle persone che avete sentito parlare qua non potranno mai giocare per la palestina quindi la nazionale di cui si parla è una nazionale finta la nazionale dell'ANP vanno anche all'Olimpia di nuovo fanno la fanno la cerimonia arrivano con la bandiera però chi sono quelli? sicuramente non sono i 3 milioni e mezzo di palestinesi che si trovano in Giordania sicuramente non sono i 500 mila palestinesi che stanno nei campi profughi in Libano non sono i 700 mila palestinesi che si trovano in Siria e sicuramente non sono noi palestinesi in diaspora sono una fetta di palestinesi ridottissima noi palestinesi siamo spesso costretti se abbiamo la fortuna di avere dei documenti perché i palestinesi che si trovano in Libano non hanno niente sono stampa a piede non hanno veramente niente non hanno niente in mano non hanno una cittadinanza loro non possono giocare magari ci sono tanti maradona sicuramente non possono giocare però siamo costretti ad andare a fare sport con nazionali che non ci appartengono a un esempio io non so ogni tanto sento che il mondo mi gira attorno praticamente in Giordania è il mio vicino e il mio vicino di casa si chiama Ahmad fatta e quando è all'olimpiadi di Rio del 2016 ha vinto la medaglia d'oro ma in quale medagliere è andata a finire questa medaglia d'oro nel medagliere della Giordania lui quando c'era la parata della rappresentanza olimpionica dell'ANP lui era là a guardarli non era là in mezzo a quella parata e quindi di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di una nazionale che non esiste non esiste a proposito di olimpiadi e allora le olimpiadi il comitato olimpionico ha preso posizione come gran parte delle organizzazioni sovranazionali sportive ha preso posizione contro la Russia in questo periodo mi dà fastidio a fare i parallelismi però spesso veramente ti buttano addosso c'è stata questa roba di prendere posizione contro la Russia e anzi ci sono varie nazionali che hanno detto hanno dichiarato che non avrebbero affrontato la nazionale e gli atleti russi opinabile però va bene sono posizioni olimpiadi di Tokyo del 2020 e poi si sono giocati nel 2021 Fethi Nourin che è un campione di judo algerino si trova nel suo percorso a dover combattere contro un atleta israeliano lui decide si rifiuta di combattere con questo atleta israeliano e a seguito di questo rifiuto gli arriva una squalifica di 10 anni cosa vuol dire per un atleta una squalifica di 10 anni magari a 23 anni fine carriera fine carriera squalifica di 10 anni i 10 anni allora il ho sentito dire quando quando cioè io seguo lo sport magari vedevo i telegiornali sportivi che parlavano di questa di questa decisione di questa presa di posizione da parte di Fethi e quello che veniva detto era che Fethi è stato antisportivo è stato antisportivo perché la politica non si mette nello sport tutte queste tarantelle qua cioè insomma robe che possono anche entrare nella testa uno potrebbe dire ma perché non ha combattuto contro di lui no però anche questo fa parte del boicottaggio perché noi sosteniamo tutte le forme di resistenza inclusa il boicottaggio e il boicottaggio non è fatto solamente da palestinesi ma è fatto da tutti coloro che sentono vicino alla causa palestinese nel momento in cui Fethi decide di non combattere contro questo atleta israeliano sta prendendo una posizione ma perché lui l'ha spiegata l'ha spiegata io sostengo il popolo palestinese che è un popolo occupato un popolo oppresso un popolo sotto apartheid prende posizione prende posizione a proposito di questo boicottaggio adesso si sta c'è una campagna di boicottaggio nei confronti di Puma perché Puma in questo momento è sponsor ufficiale dell'IFA l'Israeli Football Association perché perché nel momento in cui è sponsor di quest'IFA oltre ad essere sponsor dell'occupazione sponsor di comunque di questa associazione che rappresenta l'apartheid nello sport è sponsor anche nelle colonie perché all'interno del campionato del campionato israeliano ci sono anche squadre per esempio di Male Adumim che è una colonia enorme una colonia enorme davvero nella quale c'è una squadra di calcio ci sono sei squadre parliamo di un campionato di dodici squadre sei squadre sono delle colonie quindi boicottare Puma è necessario perché noi veramente possiamo fare poco cioè nel senso noi a livello pratico abbiamo poco da fare oltre informarci oltre dobbiamo anche indirizzare il Puma vai boicottata vai boicottata prendi una posizione del genere vai boicottata prima si parlava di Sahnin Sahnin che è una squadra ecco allora spesso viene definita squadra araba nel campionato israeliano no no nonostante che io dico con orgoglio di essere arabo nonostante che io rivendico il fatto che noi siamo noi arabi siamo un popolo unico no è una 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 presa di posizione dire arabi squadra araba nel campionato israeliano una presa di posizione che tu stai negando il fatto che siano palestinesi loro sono palestinesi quello che è fuori luogo in tutto questo è che che ci sia il campionato israeliano cioè nel senso quello che è sbagliato non è il il fatto che loro sono palestinesi e dovrebbero essere chiamati arabi no quello è il campionato dell'occupazione fatto sta che nel 2004 vince la coppa eh d'israele vince la coppa d'israele e chiaramente a livello mediatico come in qualsiasi regime eh la propaganda è importante eh a livello mediatico è stata data una risonanza ridicola del fatto che il Sakhnim vince questa questa coppa il Sakhnim dovete considerare che è una squadra che ogni volta che va a fare un eh a giocare contro un'altro un'altra squadra si trova sempre a fare una guerra nel senso immaginiamoci qua un derby pesante che ne so tipo un una partita pesante che ne so un Napoli alla Sverona queste queste partite così no ok ci troviamo in questa situazione però in ogni partita in ogni partita perché all'interno delle curve israeliane spesso c'è l'estrema destra israeliana comunque spesso lo sport rappresenta un po' la società no e infatti praticamente tutte le curve israeliane hanno al loro interno gente dell'estrema destra israeliana partita fra Beitar Gerusalem che è praticamente la squadra più razzista più psionista più cioè immaginatevi è come dire la Sverona Sverona non ci siano tifosi antifascisti della Sverona qua presenti non so se esistono spero esistano però è il corrispondente se vogliamo farlo ebbene partita è come un derby d'Italia il Sahnin contro Beitar Gerusalem arriva a questa partita la curva del Sahnin sventola le bandiere palestinesi la curva del Beitar il loro gruppo ultra si chiama La Famiglio gruppo veramente brutto veramente brutto perché io vi racconto anche altre cose su di loro inizia a dire morte agli arabi morte agli arabi morte agli arabi che è una cosa che dicono sempre ma non lo dicessero morte palestinesi morte agli arabi capito morte agli arabi arrivo devo muovermi no 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 ok no scusa morte agli arabi morte agli arabi ok arriva questa partita arriva addirittura alla Knesset al Parlamento dell'entitazionista arriva perché un parlamentare arriva chiedendo la squalifica dal campionato israeliano del Sakhnin perché sventola vale bandiere palestinesi allora immaginiamoci di nuovo Erlas Verona Napoli no o Vesuvio vabbè la sappiamo la sappiamo solitamente nella normalità delle cose dovrebbe esserci una squalifica della curva spesso non succede spesso non succede dovrebbe esserci una squalifica della curva della Las Verona sicuramente non di quella del Napoli non di quella del Napoli anche perché io quando sventolo la mia bandiera e questa è una cosa che spesso all'entitazionista non piace vedere la nostra bandiera non piace vedere la nostra bandiera vuole negare totalmente la nostra identità e continua a provarci anche in queste cose anche in queste cose torna ai tifosi del Beitar del Beitar Gerusalem 2014 situazione calda tant'è che dopo si è partita con l'escalation di violenza di violenza chiamiamo l'escalation di violenza questo è il giornale che la chiama escalation di violenza si chiama bombardamento a tappeto di Gaza arresti arresti a chiunque in Cisgiordania che succede succede che degli ultra della famiglia quindi del Beitar Gerusalem prendono Mohammed Aboukdair ragazzo di 16 anni prendono lo rapiscono se lo portano in macchina lo portano in un campo lo menano e buttano addosso della benzina li danno fuoco vivo vivo questo è questa è la rappresentazione di quella che è la società israeliana di quella che è il di quello che è il contesto nel quale cioè voi immaginatevi immaginatevi che i calciatori palestinesi ci sono dei calciatori palestinesi che giocano anche in altre squadre oltre al Sakhnin in Serie A ogni volta si subiscono dei cori anche da parte dei loro stessi tifosi una volta al Beitar è arrivato un calciatore un calciatore come lo chiamavano loro arabo è arrivato un calciatore palestinese non è potuto starci l'hanno mandato subito via ogni volta erano i suoi tifosi contro di lui questo è il contesto nel quale nel quale facciamo sport è un contesto nel quale adesso scusate devo leggere sta roba perché con il numero è un problema c'è questa grafica del 2017 che riporta i calciatori professionisti palestinesi cosa hanno subito nei dieci anni precedenti ebbene abbiamo 26 divieti di movimento 12 morti in bombardamenti quindi ammazzati perché i telegiornali dicono morti si dice ammazzati si dice uccisi 11 sparati 11 sparati non morti negli scontri ma sparati 9 carcerati parliamo di calciatori professionisti non stiamo parlando di io che vado a giocare alla polisportiva quella che ho qua dietro cioè parliamo di e 9 gambizzati che è una delle cose peggiori cioè nel senso che è una cosa alla quale ultimamente punta un sacco l'entità sionista nel senso ha capito che spesso i morti fanno molto casino e allora io cosa faccio io ti rendo invalido io non ti faccio più fare niente ti faccio rendere un peso capito ti faccio rendere un peso a proposito di questo ad un checkpoint vengono fermati due ad un checkpoint in Cisgiordania vengono fermati due calciatori della nazionale palestinese della nazionale quella nazionale di cui parlavo della nazionale tronca vengono fermati ad un checkpoint e vengono stranamente capito cioè non è che magari gli hanno sparato in un braccio no vengono sparati uno al ginocchio e l'altro ai due piedi è chiaro il tentativo dell'occupazione in ogni modo di non permetterci di campare di dirci non vorrei essere qua eppure eppure noi continuiamo a resistere noi continuiamo a resistere la resistenza nello sport è una cosa che la resistenza in ogni aspetto della vita spesso si dice sta cosa che è un po' cringe no resistenza con la R fra parentesi no cioè è vero però è vero cioè nel senso tu in particolare vi assicuro per noi palestinesi è verissimo cioè nel momento in cui noi esistiamo stiamo resistendo stiamo resistendo perché fino a quando fino a quando noi continueremo io sono nato qua in Italia sono nato qua in Italia ho la cittadinanza italiana l'ho presa dopo tanto tempo dopo tante file in questura tutte queste tarantelle ho la cittadinanza italiana potrei andare in giro di essere italiano potrei dirlo in giro di essere italiano potrei dire tutte queste cose anche se sto paese non mi vuole come italiano però potrei anche permettermelo no io non lo dirò mai non lo dirò mai non lo dirò mai perché se io lo faccio in quel momento c'è un sionista che sta festeggiando sta esultando perché io sto negando ogni mio diritto un giorno a dire io qua torno questa è casa mia e io là ci voglio tornare là ci voglio tornare io spero che un giorno la Palestina verrà liberata verrà liberata verrà liberata la Cisgiordania verrà liberata Gaza verranno liberati tutti i territori occupati io la voglio da sopra a sotto dal mare al fiume io la voglio tutta tutta io quando sono andato in Palestina io sarei voluto andare a H sarei voluto andare a Iapa volevo vedere il mare a me il mare piace un sacco perché io non posso andare là perché io non posso andare là io ambisco un giorno ad una Palestina nella quale io possa andare dove voglio una soluzione a due stati nella quale io non abbia il diritto il diritto sacrosanto di poter attraversare il mio paese la mia terra come voglio non è una Palestina libera non è una Palestina libera mi potete mettere un governo mi potete mettere quel cazzo che vi pare la mia Palestina è una Palestina nella quale sono palestinesi a controllare una Palestina nella quale io posso fare quello che voglio non ho confini non ho limiti quella è la mia Palestina e spero un giorno che che si possa spero un giorno anche che ultimo accenno poi sto rompendo il cazzo sto parlando da un sacco di tempo spero un giorno che sia vista anche perché ci sono molti che vanno anche molte società sportive che vanno in Palestina e vanno ad insegnare io spero un giorno io faccio parte di una palestra popolare la Bolognina Box ho visto qua Bolli Sportiva San Precario non so se ci sono rapporti spero un giorno ci sia rapporti magari uno scambio di guanti spero che ci possa essere un giorno ma spero un giorno che si possa anche organizzare una trasferta in Palestina una trasferta in Palestina nella quale noi andiamo semplicemente a fare uno scambio di guanti una sguantata degli incontri cioè non bisogna andare là ad insegnare non bisogna andare là ad insegnare bisogna andare bisogna riconoscere bisogna dare potere tu dai potere riconoscendo dai potere dando atto al fatto che questo questa è esistenza esiste questa realtà esiste questa realtà e non ha bisogno di nessuno non ha bisogno di nessuno solo questo spero che ci sarà l'occasione in generale un giorno che andiamo tutti in Palestina andiamo tutti a Dacca andiamo tutti dove ci pare dove ci pare e scusate il pippone grazie a tutti Grazie a tutti.